Bella ragazzi, io sono BeWolfers e siamo tornati su Crash Royale. Oggi andremo a fare un bel free chest opening, come piacciono a noi poveracci, e se siamo fortunati andremo anche a modificare un pochettino il mazzo. Io direi di partire con i bauri omaggio, non sia mai contengano una leggendaria, ma siamo ancora troppo piccolini per vederla. Abbiamo dell'oro, degli scheletri, dei goblin, anzi un goblin e delle frecce. Niente da fare, nessuna carta nuova. Vediamo il secondo, un po' di oro, qui ci sono le gemme, addirittura due, quanta generosità. Il solito scheletrino e il solito goblin. Va bene così, dai. Passiamo ai tre bauri d'argento, un po' di oro, il goblin singolo solito, degli arcieri, questi ci piacciono, e due scheletri. Va bene così. Secondo bauri d'argento, un po' di oro, gli sgherri, ci piacciono, cavalieri, ottimo, questo lo usiamo tantissimo, e prima o poi avremo anche i goblin lanceri, ve lo garantisco. Un altro baule d'argento, vediamo cosa abbiamo. Un po' di oro, il solito singolo goblin, e i bombaroli, questi non ci piaceranno per niente. Infine, passiamo al baule d'oro. Abbiamo l'oro appunto, delle frecce, no grazie, degli sgherri, va bene così. Una valchiria, questo non va bene. E tanti scheletri ancora. Ragazzi, ci hanno riempito di scheletri. Volevo comunque spiegare una cosa. Come vedete, siamo in Arena 2. In Arena 1, dove eravamo fino a poco tempo fa, abbiamo trovato tutte le carte, tranne le due epiche. Nell'Arena attuale, abbiamo trovato tutte le carte, tranne le due epiche. Di conseguenza, non abbiamo grandi possibilità di trovare nuove carte, a meno che non abbiamo una botta di fortuna pazzesca, o saliamo di Arena. Per salire di Arena non ci manca troppo, perché siamo a 542 trofei, e la prossima è a 800, quindi secondo me in due o tre giorni riusciamo anche ad arrivarci, ma fino a quel momento dobbiamo fare di necessità virtù con le carte che abbiamo. Volevo spiegare per quale motivo non andiamo a cambiare le carte con altre carte che abbiamo sbloccato, e che avremo anche l'oro necessario per poter portare su. Il motivo è semplice, il nostro mazzo costa 3.3. In questo momento il 3.3 ci è dato soprattutto dagli scheletrini, che costando solamente uno, ci permettono che cosa? Di avere un mazzo che gira molto velocemente. Vi faccio vedere una cosa, io a posto di scheletrini potrei mettere dei Goblin, per esempio, e il mazzo salirebbe a 3.4, o addirittura una carta più pesante, come un mini pecca o la Valkyria. Ad esempio la Valkyria la inseriamo, saliamo a 3.6. 3.6, dal mio punto di vista è un mazzo fin troppo pesante, rimetto gli scheletrini prima che mi scordo, dicevo mazzo fin troppo pesante perché nel nostro deck abbiamo due tank puri, che sono il Cavaliere e il Gigante, e un mezzo tank che è il Draghetto. Questo fa sì che noi abbiamo bisogno di tanto supporto da dare a questi tank, e non possiamo dare questo supporto se non abbiamo l'elisir necessario per darglielo. L'elisir necessario è dato da che cosa? Sì, dalla produzione dell'elisir, ma anche da quello che spendiamo. Quindi avere delle carte che ci permettono di spendere poco e dargli tanto supporto è importante. Un pensiero che si potrebbe fare a questo livello è quello di inserire i Gobbi e i Lanceri. Perché? Perché costano 2, sono 3, è vero fanno meno danno degli Arcieri o del Moschettiere, però sono una carta che in questo momento, per essere contrastata a distanza, bisogna tra virgolette sprecarci contro, o delle frecce che costano 3, o una palla di fuoco che costa 4. Questo non è male, perché riusciremo a avere un vantaggio nei confronti dell'avversario di 1 o di 2 elisir, e al tempo stesso, costando meno degli Arcieri, potremo inserire in campo più spesso. Ci sto pensando e probabilmente nel prossimo video andremo a fare in questo modo. Anche perché, se facciamo attenzione, ci vorrà l'Arena 5, se ricordo bene. Esatto, c'è l'Arena 5, prima di vedere la carta killer di questi Goblin, che è la Zap. A questo punto mancano ancora 7 minuti per il bollone della corona, quindi direi di fermarci qui. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, condividete, commentate, fatemi capire che ci siete. Grazie ragazzi e alla prossima! Grazie a tutti!